Ciao ragazzi, sempre da Madonna di Campiglio, il trick oggi è Backside 540, molto simile al Backside 360 che abbiamo visto sempre nei nostri video. Questo trick sarà importante avvicinarsi al kicker con la tavola piatta e leggermente poi sui talloni per andare a portarsi sulle punte e trovarmi con la lamina giusta per effettuare questa rotazione. Una volta arrivato sul kicker avrò maggiore pressione sulla caviglia posteriore in modo da alleggerire la punta e facilitarne l'uscita dal salto. La mia posizione sarà questa per avere possibilità anche qua di impulso rotatorio. Questo impulso rotatorio va concentrato attorno alla gamba dietro e non verso la gamba anteriore per non impuntarsi. Una volta che esco dal kicker hollo come al solito, come negli altri trick, mentre hollo continuo l'impulso che ho iniziato sul kicker. Con le gambe raccolte sorpasso il primo 360 che ho effettuato e in quel momento lì vedrò l'atterraggio del 540 sotto il mio braccio anteriore e le gambe non faranno altro che rimanere raccolte fino a quel momento in cui le distenderò per l'atterraggio. Atterro in switch, giro la testa nella mia direzione di avanzamento e vado al bar a esultare.